mancano cinque giorni alla fine dell'anno siamo sotto il segno del capricorno la chiesa ricorda santo stefano l'onomastico oggi è l'onomastico di stefano e stefania il nome è di origine greca e significa incoronato il numero porta fortuna è il sette il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo accadde oggi il 26 dicembre del 1933 viene fondata a tokyo in giappone la nissan motor company chi è nato oggi tra i personaggi famosi nati il 26 dicembre ricordiamo lo scrittore americano henry miller il pittore renato guttuso la citazione del giorno talvolta la verità di una cosa non sta tanto nel pensiero di essa quanto nel modo di sentirla stanley kubrick dice il saggio è meglio risparmiare al principio che alla fine il bel paese l'italia è testimone di realtà senza tempo e dimenticate dall'uomo parliamo di craco una cittadina a 50 chilometri da matera che negli ultimi anni ha attratto turisti da tutto il mondo il borgo risalente con tutta probabilità al settimo secolo avanti cristo venne evacuato nel 1963 a causa di un enorme frana che costrinse la popolazione ad insediarsi nella valle sottostante a seguito dell'accaduto la città è rimasta intatta e disabitata un vero e proprio paese fantasma inserito nel 2010 nella lista dei world monuments fund un elenco di tutti i monumenti che necessitano di una salvaguardia per il loro intatto ed eterno splendore grazie a tutti